Tra poche ore, nell'ambito di Procida 2022, il Mimas Festival prende la luce. Per saperne di più ne parliamo con il delegato alla cultura, Michele Assante delle Cese. Allora, di che cosa si tratta? Allora, il Mimas Festival è un evento importantissimo per la nostra isola. Prima di tutto perché è un festival internazionale di musica, i cui protagonisti sono ragazzi che vanno dai 6 ai 7 anni fino ai 30 anni. Ragazzi che vengono da ogni paese del mondo. Ci sono anche ragazzi che vengono da paesi, le cui nazioni appunto sono in guerra tra di loro. È un festival sulla fratellanza, che quest'anno si è gemellata anche con Tirana, che è capitale europea dei giovani. E lo ospiteremo nella splendida, purtroppo è una frase fatta, non bisogna dirlo, nella splendida cornice di Santa Margherita, che quest'anno hanno interrotto il cantiere apposta per lasciarci agosto e settembre per poter ospitare questi eventi. Inizierà il 25, il 26, il 27, sotto la direzione artistica di Luciano Ruotolo. E il 28, a completamento, non fa parte del Mimas, ma comunque è un evento immenso, gigantesco, ospiteremo Maria Dragoni, che sarà qui a fare un concerto in esclusiva, sempre a Santa Margherita. Sanno quattro giorni di musica, fra violinisti, pianisti, ma poi sono tutti giovani, questo è il bello, giovani che vengono da ogni parte dagli Stati Uniti, dalla Corea, dalla Cina. È qualcosa di eccezionale. Di eccezionale iniziamo il 25 agosto alle 21.30, vi aspettiamo a Santa Margherita Nuova, Terra Murata.